Oh benissimo, non so cosa si sentirà da questo film, da questo filmato perché sono sulla strada e ho una faccia allucinante, sembro una novantenne, però non importa, oggi devo andare a recuperare la mia bici perché ieri ha nevicato così tanto che era pericoloso e volevo farvi vedere soltanto com'è la pista ciclabile oggi e volevo dirvi che spero di non morire, questa che vedete davanti a me ecco questa qui è la pista ciclabile e anche dall'altra parte della strada, adesso ci sono troppe macchine perché ho veramente sfiga, passere a tutto il mondo adesso, comunque come potete vedere la pista ciclabile è messa un filino male, speravo che la pulissero però non è stato così poi io ho già una voce di merda naturale, sono una sorta di baritono uoma e non ho gli acuti perché uno non si sentirà un cazzo e anche se alzerò al 150% non si sentirà una mazza adesso chiudo perché c'è veramente troppo traffico, cioè niente però la mia voce non si sente di sicuro un bacione dalla Ale formato omino Michelin perché fa veramente troppo freddo ci sarà almeno meno uno o due gradi, un bacione